E' un piacere introdurre la dottoressa Ruggeri, l'argomento è una cosa da nulla e quindi sarà facilissimo arrivare alle conclusioni, grande aspettativa. Ma io credo che in questa sala di sovraffollamento di pronto soccorso, analisi e soluzioni credo che tutti ne sappiamo quindi diciamo nonostante il numero delle diapositive io andrò molto velocemente semplicemente per condividere con voi quello che noi come gruppo, come società scientifica abbiamo fatto e magari possiamo condividerlo aggiungendo o togliendo qualcosa. Queste sono le classiche scene del sovraffollamento quando veramente non abbiamo più risorse di alcun tipo per assistere i pazienti in visita o in attesa di ricovero e che ancora arrivano. Questi i numeri del pronto soccorso dal piano nazionale esiti, ricordo che abbiamo 20 milioni e 500 mila accessi, 2.500 all'ora e i pronto soccorso totali, finalmente sappiamo quanti sono, 660 in cui tutti noi lavoriamo, 12 mila medici, non dimentichiamo i nostri 25 mila infermieri. Finalmente abbiamo anche dei dati un po' più diciamo veri della realtà dal piano nazionale esiti, vedete veramente tantissima attività, 18% i codici gialli, 66% i codici verdi, argomento molto dibattuto in quest'ultimo anno l'accesso del codice verde e qui ne potremo discutere. E questa è l'attesa nei nostri pronto soccorso totali, all'attesa totale dal piano nazionale esiti. Ricordiamoci che da questi dati, questo è solo uno degli articoli che è uscito sui migliori pronto soccorso ma soprattutto i peggiori, ma vi ricordo quello su Corriere.it e quant'altro in cui una bella giornata di questa primavera ci siamo ritrovati con alcuni pronto soccorso che in base al PNE hanno tempi di attesa lunghissimi, funzionano male e quant'altro. Anche di questo dobbiamo parlare, interrogarci perché la prima domanda che molti di noi si è fatta è come sono stati analizzati i dati, quali dati sono stati presi e in che modo. Ma il modello del sovraffollamento, sappiamo benissimo che sono o cause che stanno prima dell'ospedale o all'interno del pronto soccorso e quindi anche dell'ospedale o in uscita dal pronto soccorso, quindi verso l'ospedale o addirittura verso il territorio. Quali i rischi del sovraffollamento, cioè di tutte le persone che noi abbiamo comunque in attesa nelle nostre strutture? Bene, sicuramente i rischi principali sono dei danni, dei danni a chi, semplificando al massimo, ai pazienti, a noi stessi, quindi agli operatori sanitari che sono in quel sistema e quindi alla struttura sanitaria. Forse probabilmente è il terzo punto che dovremmo provare a lanciare con forza, perché se noi ribaltiamo e cominciamo a mandare un messaggio che il rischio del sovraffollamento si ripercuote sulla struttura sanitaria stessa, probabilmente qualche decisore o qualche interlocutore delle istituzioni ci sentirà un po' di più. E questo solo un modestissimo elenco di appunto rischi del sovraffollamento per i pazienti, per gli operatori sanitari, per la struttura sanitaria, ma un piccolissimo elenco, visto la brevità del tempo, 15 minuti, ovviamente sono tutti rischi, oramai sappiamo benissimo, più che acclarati dal mondo scientifico sia internazionale che nazionale. Ma il sovraffollamento, quali le premesse della tipologia degli accessi di pronto soccorso? Perché oggi stiamo parlando non solo di numero di accessi, ma abbiamo già accennato al case mix, alla tipologia degli accessi, al perché in pronto soccorso gli accessi. Parliamo della popolazione anziana, noi abbiamo un sistema sanitario nazionale e ci freggiamo del fatto, giustamente, che l'età media della popolazione sia allungata, la mortalità è decisamente calata, a meno 6%, ma guardate cosa succede negli ultimi anni, dal 2007 al 2017, sugli anziani 65 anni e più, da 11 milioni a 13 milioni, 90 anni e più, da 466 mila a 727 mila, gli ultracentenari, che noi molto spesso vediamo riacutizzarsi e venire in pronto soccorso, bene, anche loro da 10 mila diventano 17 mila. E queste curve, lo dicono molto bene, anche diviso per sesso maschile e femminile, il trend degli ultimi decenni della popolazione, che tende ovviamente ad invecchiare di più. Guardate che bella questa fotografia Istat sulla popolazione residente in Italia, in cui le piramidi dell'età della popolazione italiana, divisa per sesso femminile e maschile, è confrontata alla popolazione degli stranieri. Bene, la popolazione italiana, vedete come la piramide è molto slargata sulle fasce di età alte e vedete come in realtà la popolazione anziana è sempre più presente. Ma perché questo? Perché se noi abbiamo una popolazione più anziana, è chiaro che la tipologia di accesso di pronto soccorso di questi grandi anziani andrà ad impattare di più sulla nostra attività quotidiana, fermo restando che ci sono alcune patologie e alcuni anziani che potrebbero essere gestiti sul territorio, ma non dimentichiamo che molti degli anziani che vengono in pronto soccorso vengono con un riacutizzarsi di patologie croniche e hanno davvero esigenza del pronto soccorso in emergenza urgenza. Posti letto. Questi sono dei bellissimi numeri così affollati presi da Eurostat che è praticamente un sistema di statistica epidemiologica europea. Guardate, questi sono per centomila abitanti i posti letto per l'Italia, ma guardate, confrontati alla Bulgaria per esempio dal 2007 al 2015, cioè decisamente l'Italia rispetto allo scenario dell'Europa ha una distribuzione di posti letto per abitanti nettamente inferiore e soprattutto in calo negli ultimi dieci anni. Questi sono i posti letto di riabilitazione, quindi molto bene il fatto di lanciare il concetto che la sanità non è solo ospedalocentrica, ma tutto quello che non è acuto, deve andare sul territorio. Però guardate i posti letto della riabilitazione, 41 versus 40, quindi tutto sommato non sono cresciuti più di tanto contemporaneamente a ridursi dei posti letto per acuti. Questi sono i posti letto per le lungodeggenze, qui addirittura sullo scenario nazionale c'è stato addirittura un piccolo calo. Questi numeri totali invece dei posti letto, giusto per farvi vedere come sempre siamo piazzati, non per dire nulla, ma veramente molto male rispetto ad altri paesi. Io prendo per esempio la Bulgaria, che è vero che ne ha pochi, però sono cresciuti posti letto per dire. E quindi per avere una visione della situazione dell'Italia di quei tre per mille abitanti noi siamo posizionati in quel celestino sbiadito rispetto agli azzurri più forti d'Italia. Istat conferma il trend in riduzione, quindi cosa abbiamo? Popolazione anziana, grandi anziani, ultracentenari, si riacutizzano, vengono in pronto soccorso, abbiamo meno letti rispetto a dieci anni fa. Le postacuzie, la riabilitazione, le lungodeggenze non si sono incrementate, non dobbiamo meravigliarci se abbiamo anziani spalmati in tutti i corridoi e angoli dei nostri pronto soccorso. E non solo, l'altra notizia bella è che si riducono anche gli stessi ospedali, che per carità nella riprogrammazione, nell'efficientamento, nella razionalizzazione in una progettualità contestualizzata rispetto alle risorse sul territorio è un progetto lungimirante, però il trend della riduzione degli ospedali, sia come ospedali che come aziende, rispetto a quel territorio che ancora non risponde, è chiaro che pesa e impatta ancora di più sul sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso. Questo giusto per convincervi che anche Istat ha documentato questi numeri sicuramente in decremento sia dei posti letto che delle strutture ospedaliere. Una bella notizia, questo è un rapporto sda Bocconi, un rapporto Oasi 2016, che dice qual è il trend dei deficit regionali registrati nell'ambito della sanità negli ultimi anni. Una notizia positiva, questi deficit hanno sia per il nord, il centro, che il sud delle isole, un trend in diminuzione, quindi probabilmente stiamo per risanare o comunque per essere meno in crisi a livello delle nostre regioni. Cosa volevo condividere con voi oggi? Noi come gruppo di società scientifica, ma oggi ve lo dico fortemente come direttori di strutture complesse, abbiamo voluto quest'anno aderire di nuovo a un evento che facciamo, che è la settimana nazionale del pronto soccorso, proprio parlando nuovamente di sovraffollamento. Sono usciti ovviamente comunicati e i media ci hanno dato parecchio ascolto, ma quello che è stato molto importante è stato un censimento per vedere il sovraffollamento ed alcuni indicatori di organizzazione delle strutture di pronto soccorso, anche in base al decreto 70, a che punto erano? Bene, abbiamo censito 243 strutture di pronto soccorso, un campione comunque significativo rispetto ai 660, distribuiti molto bene e rappresentativi dell'Italia e guardate in che situazione siamo per quanto riguarda la gestione con alcuni strumenti del sovraffollamento del pronto soccorso. Il bed manager, in idea di secondo livello, è ancora al 50% presente, ma guardate in idea di primo, pochissimo, 28% nei pronto soccorso e quindi in quegli ospedali con pronto soccorso praticamente è quasi inesistente. Tutti parliamo di holding area, tutti parliamo di uno strumento di gestione dell'attesa al ricovero. Bene, 33% è la presenza delle holding area nelle strutture di pronto soccorso italiane, ma guardate in idea di primo e nei pronto soccorso ancora numeri più bassi. Cosa dicono gli operatori sanitari? Dicono che in tempo reale i posti letto ce l'hanno pochissimi, in particolar modo vedete intorno al 40%, percentuale con posti letto che vengono forniti giornalmente, quindi una volta al giorno al medico di pronto soccorso, percentuali ancora più bassi, ma soprattutto quello che è inquietante è la percentuale degli ospedali con percezione dei posti letto inferiore all'esigenza, cioè anche gli operatori sanitari sentono forte questo peso. allora abbiamo detto ma noi in quel throughput all'interno del nostro pronto soccorso avremmo attivato dei fast track, avremmo attivato qualcosa per migliorare e velocizzare, anche questo è un indicatore che comincia ad andare bene perché siamo intorno al 60% di realizzazione delle nostre strutture, ma ancora e questo lo dico a tutti noi perché tutti noi ci dobbiamo impegnare in questo, c'è da lavorare. Piano di gestione del sovraffollamento, gli ospedali sono dotati di un documento oltre al PayMaf, se mai ci sarà una catastrofe o un attacco terroristico o qualcosa mi auguro mai, PayMaf ce l'abbiamo quasi tutti, ma la gestione del sovraffollamento che è una catastrofe quotidiana in qualche modo è documentata con una procedura qualcosa negli ospedali? Soltanto il 54% d'idea di secondo livello come se tutti gli altri, l'altra metà non avessero o non abbiano sovraffollamento, ancor meno nei pronto soccorso e poi non solo, c'è chi ce l'ha ma non lo applica. Quindi stiamo ragionando di un concetto non da poco, la cultura del sovraffollamento che assolutamente va condivisa con le istituzioni per quanto riguarda territorio ospedale, 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 territorio, ma capiamo bene come questo richiederà un sacco di tempo perché non è facile investire e organizzare il territorio per aiutare gli ospedali. E' importante anche la cultura e soprattutto il sovraffollamento all'interno dei nostri ospedali perché il pronto soccorso è una struttura dell'ospedale, non è un corpo estraneo e se il pronto soccorso è sovraffollato l'intero ospedale significa che non sta lavorando bene. Noi abbiamo prodotto questo policy statement e ve l'abbiamo mandato via mail proprio per poterlo condividere con voi in cui abbiamo riassunto parte delle cose che vi ho poc'anzi enunciato, abbiamo proposto che ci sia un rilevamento regolare di trasmissione alle regioni, al ministero di alcuni indicatori che vanno a fotografare l'affollamento del pronto soccorso in maniera tale che in tutta Italia e in tutte le regioni ci sia uno strumento comune per fare tutto ciò. Abbiamo anche chiesto di fare un rilevamento con degli indicatori che siano numericamente attendibili e non una rilevazione soggettiva e abbiamo sancito il concetto del decreto 70 che dice che l'ospedale deve avere una flessibilità nella gestione dei posti letto anche per la gestione del sovraffollamento in pronto soccorso. Abbiamo anche proposto che in attesa che si organizzi il territorio, le istituzioni possano garantire che il territorio collabori veramente con l'ospedale, all'interno dell'ospedale ci deve essere un piano di gestione dettagliata del sovraffollamento e lo abbiamo anche condiviso con i cittadini. Abbiamo voluto fare lo stato di salute dei cittadini un evento con una conferenza stampa insieme a Cittadinanza Attiva, insieme a loro abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo anche presentato la carta dei diritti del cittadino al pronto soccorso che mi invito caldamente a leggere perché non è solo del cittadino utente di pronto soccorso ma è anche del cittadino operatore sanitario di pronto soccorso quindi anche di tutti noi e il punto 7 è il diritto alle 6 ore, un diritto che assolutamente abbiamo voluto condividere insieme. Anche da questo censimento è venuto fuori per esempio a proposito del decreto 70 che le osservazioni breve intensive ancora stentano a decollare nei 660 pronto soccorso che ancora funzionano male perché nelle hobby ci mettiamo i pazienti in attesa di ricovero sulle barelle a castello e che la gestione dei posti letto ancora non è uno strumento in mano al medico di pronto soccorso. Poi una cosa che tengo a precisare perché ho detto che uno degli eventi correlati al sovraffollamento sgradevoli è la mancanza della privacy dei pazienti, bene ce l'hanno detto anche loro con questi triangoli rossi che vedete in queste torte perché è chiaro nei nostri pronto soccorso la privacy è veramente molto poco tutelata e questo era un altro dato che abbiamo raccolto sul perché molto spesso i cittadini vengono in pronto soccorso anche se non hanno un'urgenza proprio perché il territorio ancora non funziona come dovrebbe. Ora io concludo, ho rubato un minuto per dire che oggi come dicevo prima siamo qui per poter condividere qualche proposta da portare alle istituzioni che possa nascere dal policy statement che è Simeu, non è importanza, ci sarà qualcosa che potremo condividere, qualcos'altro che non potremo dividere ma lo dobbiamo presentare tutti insieme. Dobbiamo assolutamente cercare di costruire un documento sulla gestione del sovraffollamento dei nostri pronto soccorso a livello nazionale con le istituzioni in maniera tale che non ci sia una regione più virtuosa rispetto ad un altro perché c'è una regione che ha legiferato su come farlo e tante altre regioni dimenticate dal mondo. Chiedere alle istituzioni un tavolo tecnico permanente su questa cosa, lavorare insieme qualcuno di noi, qualcuno di voi che ha più esperienza ma soprattutto non dimentichiamo due elementi importanti, l'alleanza con il cittadino perché allearsi col cittadino nel momento in cui c'è il sovraffollamento come ha detto anche ieri Paolo significa dialogare alla pari su questo problema che attanaglia il cittadino utente ma anche noi cittadini operatori sanitari e cercare insieme delle strategie congiunte anche con il cittadino ed in ultimo non da poco è veramente vi e mi esorto a trovare dei numeri, dei registri, dei dati per fare ricerca sul fenomeno del sovraffollamento perché senza numeri, senza fotografie ben precise non saremo mai in grado di sostenere la nostra tesi e quindi le nostre ipotesi risolutive. Con questo vi chiedo scusa. La parola al dottor Susi. Allora, chi mi conosce sa quanto questo problema mi stia sul collo. Sei un produttore di sovraffollamento. E quindi sarà un intervento un po' particolare nel senso che vedendo la tua relazione la mia sensazione è stata quella di rabbia e di fastidio perché hai dovuto impiegare ha dovuto impiegare metà del tuo tempo come al solito per trovare delle pezze giustificative a un problema che non siamo noi a generare a meno che non siamo delle capre allora se siamo delle capre dobbiamo essere rimossi dal nostro posto e mandati a fare un altro lavoro. Credo che sia arrivato il momento e l'Accademia dei Direttori potrebbe essere l'occasione giusta di lanciare un messaggio fuori in maniera definitiva e netta una volta per tutte. Non possiamo ogni volta tollerare che la stampa, i politici, anche l'opinione pubblica caschi dal pero quando esce la cattiva notizia di quello che cade dalla barella dopo che c'è stato tre giorni o quello che muore in pronto soccorso dopo quattro giorni. Purtroppo piaccia o non piaccia è una cosa ineluttabile che ci sia questa difficoltà a ricoverare i pazienti un po' come il fatto che dobbiamo morire tutti. Quindi tiriamo una riga, non so come, non so quando e non so in che termini e guardo Silvia perché lei potrebbe darci qualche indicazione su questo e da adesso in poi lavorare su quello che dicevi tu, studiamo, approfondiamo il fenomeno, diamo numeri e soprattutto diamo indicazioni al miglioramento di una cosa in cui siamo vittima più che carnefici insieme ai pazienti. Non lo possiamo più tollerare. Se succede una cosa chi è che ci va per le piste? Il direttore del pronto soccorso. Avete visto Nola, è successo al San Camillo, lo vedo io tutti i giorni da me. Non è più accettabile una cosa del genere, non possiamo più far finta che sia una cosa eccezionale. È il fatto quotidiano. Grazie, Benemino. Franceschi, assolutamente d'accordo. Hai citato Silvia, ovviamente gli altri 148 probabilmente non sanno chi è Silvia. Silvia Alparone, la dottoressa Alparone è una giornalista, è la nostra referente per la comunicazione della società scientifica. Quindi il dottor Susi ha ditato Silvia Alparone come rappresentante della classe dei giornalisti. Tutto qui. Il dottor Franceschi dopo il dottor Carbone. Grazie, no, perché in questa relazione secondo me è centrato il cuore del problema e tutte le domande fatte prima dipendono da questo. A partire dal difficoltà del reclutamento dei medici, in che ambiente noi li mettiamo a lavorare? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Gli specializzanti che scelgono la nostra specialità, in che setting noi li mettiamo? Questo è il punto. Cioè se noi non risolviamo questo problema, noi non riusciremo mai a reclutare il numero dei medici, eccetera. E le dotazioni di organico, prima si diceva, giustamente, non possono essere basate solo sugli accessi in pronto soccorso. Perché se noi oramai le terapie semi-intensive le facciamo in PS perché non ci sono abbastanza posti in ospedale, è chiaro che noi dobbiamo staffare. Io l'anno scorso ho avuto una relazione regionale e anche nazionale, si meno proprio sugli spazi. Che spazi abbiamo in pronto soccorso? Se noi andiamo a vedere, c'è un documento Simeo 2007 in cui venivano tracciati proprio i metri quadri che un pronto soccorso dovrebbe avere in base al numero di accessi, eccetera. Io sfido chiunque a verificare questo e scoprire che i nostri pronti soccorsi hanno degli spazi assolutamente esigui rispetto al numero dei pazienti che noi gestiamo. E allora gli spazi è un problema importante. Ho sentito qualcuno a volte dire sì, ma poi gli spazi vanno riempiti, il personale. E signori, se noi abbiamo un iperafflusso in pronto soccorso, non riusciamo a ricoverare, non abbiamo gli spazi, è chiaro che da qui non ne usciamo. Quindi lavorare sugli spazi, lavorare sulle risorse umane, cioè le direzioni devono sapere che lì non si fa solo il pronto soccorso. Cioè io visito il paziente e gli dico ok lei vada a casa, eccetera. Lì vengono trattati dei pazienti a 360 gradi e adesso li teniamo per uno o due giorni. Quindi personale, spazi, sono tutte cose che andrebbero appunto messe nel piatto della bilancia per risolvere questo problema. Grazie Francesco, è proprio il firouge di questa Accademia, già dal programma, già dagli obiettivi, dal razionale. Quando abbiamo voluto fortemente inserire l'argomento degli standard, l'argomento della specialità, e in questo l'argomento di una delle criticità, che è il sovraffollamento, è stato proprio per cercare di creare un firouge tra quello che realmente è la nostra situazione, quelle che sono le proposte risolutive alla situazione, ma soprattutto gli strumenti di miglioramento per migliorare la qualità di quello che facciamo e per comunicare alle istituzioni, a chi poi leggifera, quello che giustamente dicevi tu, che il pronto soccorso oramai non è più una porta d'ingresso in cui il paziente lo vediamo dieci minuti e via, è un posto di diagnosi cura e direi anche cura protratta. Si alzano, c'è anche lì dietro. Allora, vai. Buongiorno, Giorgio Carbone, Humanitas, Gradenigo, Torino. Vorrei andare un po' sul concreto e uscire dal lamento. Nel senso che di qua dobbiamo uscire con proposte concrete, ma hai detto poc'anzi. Quindi bisogna chiedere a gran voce l'accreditamento del territorio, perché oramai sappiamo tutto, col P&S sappiamo tutto di cosa succede in ospedale, quanti siamo, come siamo, come lavoriamo, quanti ne escono, quanti muoiono, quanti vivono, come li curiamo, ma non sappiamo assolutamente nulla di cosa succede sul territorio. Quindi non sappiamo come la medicina di base lavora, non sappiamo come lavorano le strutture di lungodegenza, di riabilitazione, eccetera, perché pensando all'in, il true e l'output, io non solo vedo arrivare la gente in pronto soccorso, devo dire un po' meno degli altri anni, perché il trend è a calare un po' in tutta Italia, ma soprattutto io vedo tornare un sacco di gente dalle strutture lungodegenziali e di postacuzie. Mi sto riempiendo il pronto soccorso, se hai la sfiga di avere l'ospedale vicino a tre, quattro strutture di postacuzie, sei finito, quindi pretendo di sapere chi, come e cosa fanno in queste strutture e fino ad ora non le abbiamo avute. E poi è inutile urlare alle sei ore come obiettivo, dobbiamo sapere come va il processo in ospedale, perché se io ho servizi di radiologia che non funzionano, se ho la medicina interna che fa 22 giorni di degenza media, io posso averne 12, 15, 50 di ore, ma è lì che sta il problema. Non forzare... Grazie. Infatti l'indicazione alle sei ore, che poi in altri documenti, in letteratura internazionale, in altri posti è quattro, insomma l'idea delle sei ore non deve essere letta come un numero che penalizza il pronto soccorso, ma deve essere letto come un tempo di attesa massimo in pronto soccorso, quando noi si è deciso che quel paziente va ricoverato, su cui deve essere valutato e giudicato l'ospedale, cioè l'attività ospedaliera e le cose che dici tu, Giorgio, non il fatto che il paziente resta in pronto soccorso cinque giorni, capito? Quindi un indicatore che viene utilizzato per il cittadino, utente, ma anche operatore sanitario, perché non è facile lavorare nei nostri pronto soccorso, come voi ben sapete, con quelli che arrivano e con quelli che ancora ci stanno, ecco perché, dicevo Beniamino, in questo è un produttore di sovraffollamento anche per 7-10 giorni. Quindi è un numero, un intervallo di tempo che serve per valutare l'attività dell'ospedale. Da lei la parola a Silvia Alparone. Buongiorno, mi giro, così visto che la maggior parte di voi non mi conosce, almeno mi vede. Sono la responsabile dell'Ufficio Stampa Nazionale Simeu. A proposito dei giornali, è vero, è molto difficile, l'opinione pubblica e i giornali spesso sembrano remare contro una buona informazione e ahimè ogni tanto è proprio vero, ce lo fanno. Ieri Gelli diceva che le tre S che interessano ai giornalisti sono sesso, soldi e sanità. Però quella S di sanità spesso sta per scandalo. Ai giornali interessano gli scandali. Cioè la mala sanità purtroppo ancora oggi fa più notizia della buona sanità. Questo però non vi deve scoraggiare perché gli unici che possono fare qualcosa siete voi. Siete voi. Dovete trovare i numeri, dovete raccontare le cose come stanno usando i vostri canali. Adesso c'è la rete. Possibilmente con una voce sola. Oggi siamo qui. Io rappresento Simeu, la comunicazione di Simeu. È importante che ci sia una voce che sui giornali difende la medicina di emergenza e urgenza quando ci sono gli scandali e che promuove un'informazione corretta sulla sanità anche in momenti in cui magari i giornali non sono molto attenti ma sfruttando canali propri si possono fare delle cose. Quindi non scoraggiatevi e cercate di rappresentare il vostro mondo quanto più potete. Grazie. Posso? Luciani, Policlinico di Modena. Io mi devo compiacere per questa iniziativa. Volevo però condividendo molto quelle che erano le affermazioni di Beniamino e far trasmettere il problema che noi direttori con nostre strutture abbiamo un grosso diciamo potere contrattuale nei confronti degli ospedali. Maria Pia aveva segnalato il problema sovraffollamento che non è un problema del pronto soccorso. Il problema sovraffollamento è un problema che riguarda tutti. Allora quando ci vengono così segnalate la impossibilità di ricoverare siamo costretti a trattenere i pazienti in pronto soccorso il mio atteggiamento è un atteggiamento assolutamente non consenziente. Io al manager eccetera gli dico bene io te li ricovero lo stesso. Allora noi oggi abbiamo l'opportunità di condividere anche dei comportamenti unitari che possono comunque far rafforzare quella che è la nostra credibilità. in questo modo anche il problema dei ragazzi che dovrebbero venire nelle nostre strutture lavorano di più guadagnano di meno sono tutte le domeniche a lavorare perché devono venire a lavorare da noi? Cioè ma solo quelli che sono un po' come noi innamorati del lavoro eccetera siamo disponibili a fare questo mestiere ma un giovane non ha l'appeal allora anche in questo caso bisogna costruire dei percorsi di appeal che possono essere anche dei percorsi economici cioè i medici che lavorano in pronto soccorso hanno un diciamo un lavoro usurante un qualcosa di in più per cui sono differenziati da quelli che sono gli altri medici altrimenti uno entra qualcuno l'ha detto fra due anni in pronto soccorso e poi subito vuole fuggire nelle medicine a lavorare comodamente quindi questa accademia dei direttori è stata da me un evento eccezionalmente gradito e forse potrebbe cominciare a prendere iniziative anche non dico sindacali ma almeno noi avere la consapevolezza che non siamo degli ultimi della serie possiamo avere un nostro ruolo all'interno del sistema sanitario grazie Mario Guarino ah no prego non hai il microfono Mario prego Marco Cardinali San Paolo io la ringrazio la dottoressa Ruggeri perché secondo me il punto sta lì cioè il numero dei letti globale no che è un dogma il numero dei letti per acuti a fronte di un invecchiamento di popolazione e di un ricorrere di accessi in pronto soccorso crea il problema e la cosa mi si è chiarita molto di più nei mesi scorsi dove abbiamo avuto un'emergenza ghiaccio in cui improvvisamente tutti a Milano sono caduti per il ghiaccio va bene la mattina dopo il problema non c'era più ne sono venuti un numero che io non ho mai visto la mattina dopo il problema non c'era ne abbiamo ricoverati tre quindi è evidente che il problema della giacenza in pronto soccorso sta nella difficoltà di mettere pazienti a letto e se questo ragionamento che mette insieme l'invecchiamento della popolazione cioè qualunque qualunque protocollo che indichi ai giovani medici dei criteri oggettivi di ricovero tiene conto dell'età chi di noi ricovera più una polmonite di 50 anni io non la ricovero più da tempo se non sia un'insufficienza respiratoria però questi malati ahimè se noi siamo un paese di vecchi avremo bisogno di 3,2 non di 3,0 perché altrimenti non ne veniamo fuori altrimenti possiamo solo fare delle grandi aree come giustamente dice il professor Francesco di decantazione decente ed educata nei confronti dei pazienti ma questo è grazie l'autor Guarino no già si fa fatica a capire il linguaggio presentati hai ragione Mario Guarino Napoli CTO premessa l'Accademia di Direttori cominciano un buon segno San Gennaro ha fatto il miracolo puntualmente stamattina grazie per noi è importante è un segnale importante invito tutti a scaricarvi l'applicazione Viva San Gennaro dove potete accendere una candela virtuale funziona anche al nord garantito io credo di essere un esempio fuori dalla routine dell'emergenza perché io sto cominciando ad aprire un ospedale dove il pronto soccorso non c'è e allora abbiamo cominciato da zero chi parla bene direbbe uno start up di impresa che è un'impresa lo sappiamo però io invito tutti proprio in questa occasione Simeo non Simeo ad utilizzare gli strumenti della Simeo perché il policy statement il sovraffollamento sono degli strumenti che possiamo portare in direzione generale che molto spesso non conoscono perché i manager girano e questi documenti non se li vanno a guardare e allora visto che noi ci andiamo nelle direzioni generali utilizziamolo e proponiamolo come strumenti come ho fatto io e devo dire mi hanno ascoltato perché sono strumenti anche molto snelli e anche facili da seguire poi una cosa si via sui giornalisti ma perché esistono i giornalisti che parlano di economia che sono esperti di economia e spesso sui economisti quelli che parlano di politica estera e sono esperti di medicina l'ultimo arrivato prende il morto e lo piazza in prima pagina secondo me la società scientifica deve intervenire su questo facendo chiarezza capisco che è complicato capisco che non è facile noi lo sappiamo con la settimana del pronto soccorso ci siamo trovati molte volte insomma e secondo me la svolta è stata andare a parlare con i cittadini attraverso le associazioni attraverso le persone per strada però secondo me dovremo far fronte a questo problema io voglio che di sanità parli un giornalista che di sanità ne sappia grazie grazie dottor Guarino eccolo aia aia ciodostia tutte condivisibili le cose che ho sentito mi fermo Giulio scusami se ti interrompo però bisogna dirlo perché i commenti Giulio Ricciuto è il revisore dei conti della società scientifica e poi diciamo ha sempre una nota abbastanza polemica mi sono calmato come avete notato da quando faccio il capo di partimento per cui volevo soffermarmi su due aspetti quantitativo e qualitativo dei posti letto perché è vero che noi parliamo di ricoverare ma abbiamo lasciato passare senza colpo ferire un dato dato da chi non so per cui bastano tre posti letto per acuti senza un briciolo Silvia di dato scientifico fornito da noi o da altre persone quindi ad esempio uno studio intention to admit non esiste quindi ci hanno detto tre e noi abbiamo abbossato tre mentre tutta la letteratura del sovrafforlamento non esiste in paesi che stanno un po' sopra ma di questi tre posti letto per acuti ma siamo sicuri che sono tutti aperti perché nel Lazio tre è sulla carta ma poi con il blocco del turnover con gli accorpamenti le aziende chiudono 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 e a tre sicuramente da noi non ci siamo non so da altre parti questo è l'aspetto quantitativo ma poi c'è un aspetto qualitativo quanti di noi durante la notte o anche normalmente preferiscono o i pazienti stessi preferiscono stare lì rispetto ad andare in alcune divisioni che sono ancora quelle degli anni 20-30-40 senza un monitor dentro medicina assolutamente inutili o che dove ormai ci possiamo ricoverare quelli che possiamo mandare quasi a casa e allora noi dobbiamo secondo me dobbiamo assolutamente puntare oltre che su tutto il resto che ho sentito anche su quello che c'è dopo di noi non solo le lungo cioè dopo il salto del territorio ok c'è il salto del territorio ma tra noi e il territorio c'è anche una degenza allora cercare di capire quante i posti letto servono non c'è un dato vero non esiste ditemi se qualcuno sa che esiste qualcuno per cui è andato dal ministro tre posti letto per acuti non esiste è un grande blef è solo economico è da ragionieri e noi l'abbiamo accettato passivamente e poi quei posti letto devono essere qualitativamente all'altezza dell'epidemiologia di oggi grazie approfitto di questo momento per chiudere perché proprio non abbiamo più margini grazie a tutti Grazie a tutti